Buongiorno a tutti, siamo qui in compagnia di Paolo Pietrafesa, amministratrice delegata di Allianz Bank, all'evento Il valore della consulenza nella splendida cornice di Piazza Fari Palazzo Mezzanotte. Come prima domanda volevo chiederle come valutate l'impatto dello scenario demografico italiano e in che modo influisce sulla consulenza finanziaria, è più una sfida o un'opportunità? Allora, valutiamo lo scenario demografico come sia una sfida che un'opportunità, sinceramente. Noi siamo un più grande conglomerato finanziario al mondo, Allianz, la più grande compagnia assicurativa europea. Da anni abbiamo lanciato, ormai sono quattro anni adesso, un progetto che ha finalizzato a fornire al cliente la consulenza cosiddetta olistica, ormai ne parlano tutti, dove il tema demografico entra perché noi pensiamo che il cliente vada supportato in primis attraverso quelle che sono le protezioni assicurative per il suo futuro e quindi pensiamo a tutte le protezioni da anni tipiche, la cosiddetta long-term care che è la protezione che ti dà supporto nel momento in cui perdi alcune delle tue abilità principali per la vita, piuttosto che le assicurazioni previdenziali che devono complementare necessariamente, stante il problema demografico, la pensione ordinaria di qualunque cittadino, purtroppo in questo momento è un tema che ci dobbiamo porre tutti, come invece banca insieme a complemento di queste offerte noi andiamo naturalmente a definire un'adeguata pianificazione finanziaria degli investimenti al nostro cliente che tenga conto dei cosiddetti holding period di riferimento e che aiuti il cliente ad affrontare una volta però sistemata la parte assicurativa attraverso strumenti idonei quella che è la componente finanziaria per andare poi in questo sistema, perché è un sistema, ad assicurare che pur a fronte di un invecchiamento sempre più significativo della popolazione i nostri clienti siano in grado di mantenere un adeguato livello di vita anche dopo il termine dell'attività lavorativa. E come si è voluto a proposito di questo l'approccio alla pianificazione finanziaria, quindi alla luce della rivoluzione demografica che è in atto e quindi ci sono delle nuovi modelli, delle strategie che state adottando, che pensate per l'appunto di adottare? Allora, questo è un tema veramente complesso, quindi c'è un tema che riguarda la rete se stessa, quindi di riorganizzazione e di strutturazione di una rete di consulenti che invecchia sempre di più. Abbiamo il problema demografico riferito ai nostri clienti, i nostri clienti sono tutti di età molto avanzata e quindi la sfida è dare alla nostra rete, alla nostra banca degli strumenti atti a servire, le seconde generazioni dei nostri clienti attuali e non sarà facile, siamo in un mondo che va verso, è molto giovane, l'utilizzo di strumenti come Revolut, come strumenti di pagamento che disintermediano completamente, completamente. È un mondo nuovo, quello che ci troviamo ad affrontare, le AI, quindi i temi sono veramente tanti. E anche nella sua tavola rotonda si parlava di intelligenza artificiale, abbiamo visto nel 2023 il boom dell'intelligenza artificiale e di altre innovazioni tecnologiche. Come crede che queste e altre innovazioni tecnologiche possano... Intanto la mia domanda è lei quanto la usa, perché lei è giovane. Parecchio. Ecco, noi poco, io devo dire, noi poco e noi della nostra età. Io ho la fortuna di avere dei figli molto giovani che sono molto attivi e mi stanno aiutando, devo dire, perché veramente mi stanno aiutando a capire, diciamo come il mondo intorno a noi sta evolvendo, quali sono i servizi finanziari del presente, non del futuro, del presente, così diversi da quelli che sono i servizi established nel nostro mercato e a far evolvere la nostra banca in modo tale da utilizzare questi strumenti pur mantenendo la relazione, perché quello poi è la nostra mission, la relazione con il cliente, la relazione fisica del consulente al centro. Che rimane essenziale quindi. Che rimane per noi essenziale. Grazie mille Paola Pietrafesa. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi.